Bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di monitor, in particolare di questo monitor che è alle mie spalle. Monitor marchiato Corui, brand poco conosciuto anche perché è da poco che è sul mercato, circa da un paio d'anni. Nello specifico questo è il modello 27E6QC, 27 pollici, quad HD con un millisecondo di risposta, arriva a 144Hz, pannello WA. Viene un po' spacciato su Amazon come pannello IPS ma in realtà è un WA. In generale mi è piaciuto come monitor ma ora andiamo a vederlo un pochino più nel dettaglio. Il pannello è un 1800R quindi ha un angolo di curvatura, un raggio di curvatura di circa 1,80m. Curvatura quindi non troppo eccessiva, a me personalmente non mi dispiace anche se non sono un amante dei monitor curvi. Comunque devo dire che dà una buona immersività all'interno del game, soprattutto se andiamo a giocare i titoli competitivi. Infatti l'ho testato su vari giochi FPS e devo dire che se la cava davvero bene, dà una bella immersività. Quindi molto consigliato per chi cerca un gaming competitivo perché comunque come ho detto ha un refresh rate di 144Hz con una ottima risposta che è di un millisecondo. Tutto questo ci permette di giocare i nostri titoli FPS al meglio e soprattutto ha una risoluzione di 1440p. Dentro alla scatola troviamo l'essenziale, quindi la base che è molto facile da attaccare perché semplicemente ad incastro non ha bisogno di nessuna vite. Infatti incastreremo la base al braccio e poi il braccio al monitor. Tutto ad incastro, molto plug and play e il nostro monitor è già pronto per partire. All'interno troviamo quindi l'alimentatore, solamente un cavo DisplayPort, quindi non troveremo cavi HDMI e proprio parlando di porte possiamo trovare una DisplayPort, due HDMI, uno 1.4 e un altro 2.0 e anche l'ingresso per le cuffie, quindi possiamo collegare le nostre cuffie anche perché il monitor è sprovvisto di speaker, cosa che a me non dispiace per niente anche perché io gli speaker dei monitor non li ho praticamente mai usati e spesso e volentieri sono talmente di scarsa qualità che alla fine sono praticamente inutili quindi preferisco io personalmente non averli. Quindi monitor che riduce tutto all'essenziale, naturalmente non è un monitor top di gamma soprattutto per la risoluzione in Quad HD ma comunque è un bel entry level, ha un ottimo prezzo che poi vedremo dopo. Di contro però abbiamo che il pedestallo per quanto sia facile montarlo e quindi molto rapido però è un po' ballerino, cioè come vi mostro ora io a malapena lo tocco e il monitor balla veramente tanto, quasi un po' instabile. Proprio per questa mancanza di viti il monitor secondo me non è proprio super stabile. Quindi il pedestallo per quanto sia comodo però è un po' ballerino. Comunque il monitor ha tutti gli attacchi per poter essere agganciato a un braccio quindi problema facilmente risolvibile. Per poter accedere a tutte le funzioni del monitor abbiamo un piccolo joystick che si trova sul retro cosa molto carina e molto pratica secondo me. Naturalmente il piccolo joystick gestisce un po' tutte le funzioni quindi dal banale accendere e spegnere il monitor a poi entrare in tutte le modalità e a gestire il monitor all'interno del suo menu. Molto carino, a me è piaciuto molto anche se ho notato che dopo un pochino di utilizzo sembra che il joystick vada un po' ad allentarsi, che non sia proprio di ottima qualità. Anche se come idea è molto carina, mi piace molto il poter gestire tutto quanto andare a impostare il nostro monitor con semplicemente la levettina, questo joystick che troviamo sul retro del monitor. Una volta premuto il nostro joystick possiamo entrare all'interno del menu del monitor dove possiamo andare a impostare e a settare il nostro monitor al meglio. Ha a disposizione delle varie modalità per giocare, quindi ad esempio il FreeSync. In aggiunta abbiamo anche un mirino che possiamo impostare che verrà mostrato a schermo. Possiamo andarlo a selezionare e poi tramite anche comandi rapidi possiamo andare a attivarlo o disattivarlo. Abbassando semplicemente il joystick in basso possiamo disattivarlo o attivarlo, cosa molto carina. Soprattutto per titoli FPS magari a qualche uno può piacere. Oltre a questo possiamo trovare tutte le varie modalità, quindi filmato, FPS, RTS. Abbiamo anche l'EICARE che è una modalità contro l'affaticamento degli occhi che quindi di conseguenza abbasserà la luminosità del nostro schermo e poi possiamo andare a regolare gli ingressi e altre piccole correzioni come ad esempio la gamma e quant'altro. Quindi nel complesso monitor che a me personalmente al momento è piaciuto davvero tanto. Ha dei difetti come ho detto, comunque in generale è abbastanza basic però questo basic non è poi così sgradevole. Comunque abbiamo l'essenziale e naturalmente non andiamo poi chissà quanto oltre però per l'ottimo prezzo che è praticamente sotto i 200€ in questo momento che sto registrando si trova precisamente a 173€ quindi super prezzo per un monitor che ci dà una bella entrata in Quad HD. Quindi nel complesso fa il suo, certo che se cercate qualcosa con delle caratteristiche un pochino migliori naturalmente dovete optare per altro però rapporto qualità-prezzo l'ho trovato veramente ottimo. Meno di 200€, meglio di così, secondo me è molto molto difficile da poter replicare. In generale quindi corui che credo si dica così, almeno spero, mi è piaciuto molto come brand magari vi porterò altri prodotti di questa azienda ma come sempre il tutto ve lo rimando un po' a voi fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti se l'avete mai provato. Come sempre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e niente ragazzoli, il video si conclude qui e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!